Novità importanti in arrivo per il mercato della Juventus, a parlarcene direttamente del tutto sport e quindi analizziamo il dettaglio delle notizie di oggi perché ci sono novità molto molto interessanti per quanto riguarda il fronte e centro campo Juve, che è da analizzare e da studiare bene e quindi scopriamo tutto il dettaglio oggi qui su FCM Newsport, io come sempre ricordo che qui sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juve, quindi se vi va iscrivetevi al canale, attivate la campanella e supportateci con un semplice like in maniera del tutto gratuita. Non ci sono costi, non c'è nulla da pagare, quindi che vi costa? Semplicemente dovete iscrivervi gratuitamente, lasciare un like che è gratuito, attivare la campanella, anche quella gratuita, quindi poi se vi va c'è anche la sezione dedicata ai commenti dove potete sbizzarrirvi con le vostre idee. Allora, analizziamo quello che è la situazione legata al centro campo perché si attende ancora la risposta di Rabiot, ma attenzione perché Juventus ha individuato il primo nome per il futuro. L'abbiamo detto tante volte, ne parliamo da tempo, ma ci sono novità da questo punto di vista perché il primo nome nella lista della Juventus è sicuramente Davide Frattesi, giocatori che praticamente in Italia vogliono tutti. Le top italiane lo vogliono tutti, soprattutto Roma, Inter e Juventus sono le squadre che si stanno avvicinando sempre più a questo ragazzo. Ricordiamo che l'Inter ha fatto un incontro, meglio di sera, c'è stato un incontro proprio a dirigenti dell'Inter e il Sassuolo per cercare di portare a casa il centrocampista romano. La Roma che lo ha venduto al Sassuolo vuole riprenderselo, è al 30%, il 30% sulla futura rivendita, quindi come se avesse un 30% di sconto, diciamo così, e la Juventus. Io credo che tra queste tre la Juventus ha le carte in mano per poterlo portare con più facilità e ora arriviamo a capire il perché, perché c'è una novità importante a questo punto di vista, ma ci sono altre situazioni che mi portano a credere che Roma e soprattutto Inter abbiano, diciamo, qualcosa in più. Perché vi dico questo? Poi vi dico perché la Juventus però a livello di cartellino può arrivare con più facilità. Partiamo dall'Inter. È facile, sono due i motivi. Punto primo, perché l'Inter in questo momento è una squadra che ti gioca la Champions League. Rispetto a Roma e Juventus, l'Inter ti gioca la Champions League e ha fatto la finalista della Champions. È stata la finalista della Champions League, quindi a livello di appeal, un giocatore come Frattesi che vuole fare il salto di qualità, e lo ha detto, lo ha detto chiaramente alla conferenza stampa qualche giorno fa con la Nazionale, lui ha detto il prossimo step sarà giocare in Italia, voglio giocare in Italia l'anno prossimo, ma con una grande. E se pensi a una grande in questo momento il Napoli non ti cerca, il Milan non ti sta cercando, perché non ha, diciamo, interesse da quel punto di vista, l'Inter, che gioca la Champions, è la squadra che secondo me lo può tirare di più. Anche perché secondo aspetto lui ha parlato benissimo di Barella. Ha detto io e da tempo, già da quando giocavo in Serie B, seguo Barella da molto tempo, prendo spunto spesso da lui, non soltanto quando ci gioco contro, ma anche quando lo vedo in nazionale. Beh, queste sono parole che ti fanno pensare, beh, mi piacerebbe anche giocare con lui, soprattutto all'Inter, che è una squadra che si può giocare lo scudetto e che gioca la Champions League. Però l'Inter di contro ha delle situazioni non favorevolissime da un punto di vista economico, cioè l'Inter non può spendere poi così tanto. L'Inter prima di acquistare deve vendere, quindi bisognerà capire da quel punto di vista. Perché invece vi dico che la Roma ha qualche possibilità in più? Intanto per il 30% di cui parlavo poco fa, ma poi perché lui è romano, quindi ci sarebbe il ritorno di frattesi a Roma da, diciamo, da top player rispetto al passato, visto che la Roma tra l'altro ha lasciato andare via Vinaldum, ma ha preso a War, quindi non so se ci sarebbe poi così tanto spazio per frattesi. Ma la Juventus, e nella notizia di cui parla il Tutto Sport oggi, ha una carta importati, anzi due. Partiamo dalla valutazione. La Juventus sta spingendo per abbassare i 40 milioni di chiesti al Sassuolo. Il Sassuolo, lo sappiamo, l'abbiamo visto con la trattativa Locatelli. Ti sfinisce, diciamo, da un punto di vista contrattuale. Cioè, proprio nelle trattative, Carnevale è uno di quelli che tende proprio a prenderti allo sfinimento. Non è uno di quelli che, vabbè, ok, troviamo la soluzione, basta il primo incontro, una stretta di mano e ci siamo capiti. No, è uno di quelli che prima di venderti un giocatore vuole almeno 3-4 incontri e vuole tirare più la corta possibile. Perché vuole, chiaramente, da buon imprenditore, da buon, diciamo, uno che ci sa fare col mercato, perché comunque uno che si occupa di mercato calcistico, è comunque un venditore. Quindi da buon venditore tira il più possibile dalla sua parte, il mulino dalla sua parte. E quindi, anche con la Juventus è così. Ci sono stati già vari incontri, ma sta sondando il terreno con tutti i club. La Juventus ha due carte. La prima, l'abbiamo detto tante volte, è con i De Winter. Giocatori di cui abbiamo parlato molto spesso, piace al Sassuolo, vi ho detto tantissime volte che il Sassuolo ha un bisogno sfrenato di trovare difensori. Cioè, lì davanti, a centrocampo, in attacco, è pieno di talento. Giocatori come Laurientiane, come Berardi, lo scorso anno come Scamac e Trore, a centrocampo giocatori come Locatelli, Frattese, Maxime Lopez. Cioè, ha dei giocatori che possono farti mercato ed è grazie ai giocatori offensivi, che il Sassuolo è diventato il Sassuolo in questi anni. Ha però sempre avuto una lacuna, quella della difesa. Cioè, Carnevale non è uno di quelli che sta molto attento alla fase difensiva a livello di mercato. Dice, vabbè, quelli che ci sono ci prendiamo. E quindi, da un po' di tempo che si gioca con i Roger e con i Ferrari, per intenderci, con i giocatori che... Chiriches... No, non esattamente ai fenomeni. Un giocatore come Coni De Winter può essere, diciamo, un giocatore interessante. Ma attenzione, perché a proposito di difesa, un altro nome che si è fatto, e questo, dico, la verità mi preoccupa un po' di più, è quello di Dan Usain. Perché la Juventus, pur di abbassare la valutazione del giocatore, pur di abbassare le pretese del Sassuolo, sarebbe anche disposta a mettere sul patto Dan Usain. Il TuttoSport non fa, diciamo... Non fa riferimento al tipo di modalità. Cioè, se lo dai in prestito magari per due anni o se a titolo definitivo. E quindi qua c'è da fare una specifica. Se lo dai a titolo definitivo, è chiaro che, secondo me, è un errore. Perché Usain è un giocatore che a me piace, che secondo me deve ancora un po' strutturarsi fisicamente parlando per poter ambire a giocare nella Juventus ad alti livelli, però è un giocatore che ha personalità, però è un giocatore che si vede che ha qualcosa in più rispetto ai compagni. E quindi è chiaro che io ci punterei, non farei lo stesso errore fatto con altri difensori. Ad esempio Dragosin, che ora quest'anno vedremo in Serie A con la maglia del Genoa, e vediamo se è stato un rimpianto. Perché molti dicono, eh, Dragosin non è stato niente di che, però se poi tu giochi con Gatti e Rugani, anche io vedo tutta questa grande differenza tra Rugani e Dragosin, per intenderci. Sarebbe un peccato perdere pure Usain, perché Juventus negli anni aveva la possibilità di fare una difesa per il futuro. Aveva De Ligt, aveva Romero, aveva De Miral, aveva Dragosin, li ha venduti tutti. Ha come ultimo, diciamo, ultima speranza per la difesa del futuro, ne ha due, De Winter e Usain. Venderli entrambi al Sassuolo per frattesi, non lo so, premessa che a me frattesi piace tantissimo. Ve lo dicevo già lo scorso anno, ed è per questo che io credo che la Juventus sbagli in questo, ma anche tante società italiane, perché io già lo scorso anno dicevo, guardate che frattesi è forte. Solo che un conto era prenderlo l'anno scorso, te lo davano a 25 milioni. Quest'anno, dopo questa stagione, dopo 8 gol in campionato, è chiaro che la votazione aumenta. E quindi, magari potevi anche prendere e lasciarlo un anno al Sassuolo, se volete farlo crescere, ma prendilo prima. È chiaro che dopo diventa troppo difficile. E quindi, io non metterei sul piatto Usain, magari De Winter, magari sì, ma almeno uno dei due lo devi tenere, perché sennò la prospettiva in difesa è terribile, perché comunque se vai a vedere tutti i giocatori della Juventus in difesa sono tutti grandicelli. Alexandro che potrebbe andare via, Premer, no, Premer non è anziano, ma che comunque c'è Bonucci, che all'ultimo anno c'è Danilo, e un po' di prospettiva per il futuro me la creerei. Quindi io non sono totalmente d'accordo. C'è un altro aspetto che tra l'altro mi preoccupa e, nella dichiarazione di Frattesi, cui ha parlato del suo futuro, ha detto, io nella scelta del nuovo club guardo soprattutto il progetto e il tipo di gioco. Ecco, se guarda il tipo di gioco, io ho paura che la Juventus sia l'ultima scelta, perché se continua Max Allegri, temo che ci sia un problema. Detto ciò, se cerchi un sostituto di Rabiot, credo sia uno dei migliori lui, perché esattamente come Rabiot è bravo a farti la fase di copertura, perché è uno che rincorre chiunque, che è bravo a ricoperare i palloni e quant'altro, ma è bravo anche in rifinitura e anche con gli inserimenti senza il pallone. Quindi, di fatto, Frattesi è l'uomo giusto se non è per sostituire proprio il buon Rabiot. Ditemi la vostra cosa ne pensate. Questa è una soluzione che vi intriga. Parliamo qui sotto nei commenti. Adesso, Grazie a tutti. Grazie a tutti.